Manina su? Qualcuno c'è. E conoscete l'album Pendulum? Andiamo già troppo in profondità. Questo secondo me è l'album più bello di Creedence Clarevote e Rivalu, ma non lo dico solo io, in teoria è quello che racchiude meglio tutto lo spirito di Creedence Clarevote. C'era un brano che mi piaceva moltissimo da ragazzino e che fa così. C'era un brano 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.